Confesso che certe volte, quando magari la fuga non si trovava o quando era radicata nell'appartamento, un po' di paura in più mi è venuta. Ciao e bentornato nel mio canale. Io sono Pietro Costanzo e questo è come sempre Talk Stories, il social talk di YouTube in cui porto argomenti e personaggi curiosi. In questo video ho il piacere di chiacchierare con Niccolò Agresta, che è un vigile del fuoco ma è anche un autore. Con lui cercheremo di capire il mondo dei vigili del fuoco, quello che provano durante le loro attività, scopriremo i mezzi, scopriremo come si vestono durante gli interventi. Insomma, faremo davvero un viaggio in questo lavoro molto importante, che ogni volta permette di aiutare persone in difficoltà. Ciao Niccolò! Ciao Pietro, come stai? Molto bene, grazie. Te invece? Bene, bene, molto bene, grazie. Senti, sei per caso reduce da un turno? Allora, in modo particolare ieri no, ma nei turni precedenti abbiamo avuto il nostro bel da fare e soprattutto stanno cominciando le sterpaie estive due dell'erba secca. Quindi la stagione degli incendi boschivi piano piano sta iniziando e sarà come ogni anno molto molto dura. Ecco, cosa intendi per te come appunto magari intervento duro, no? Mi hai detto già che le sterpaie sono uno di questi. Allora, intervento duro sono quegli interventi che ti impegnano non solo a livello fisico, no? Può capitare che un incendio duri anche diverse e diverse ore, incendi di appartamenti che stanno non al secondo, non al terzo, addirittura al quinto, al sesto piano, lì devi fare tante scale. Quindi un intervento è duro anche fisicamente, ma è duro anche, che ne so, anche a livello emotivo, no? Tu vedi particolarmente, che ne so, un incidente stradale che coinvolge diverse persone, un soccorso a persona che magari è stata male perché è caduta in casa ed è rimasta diverso tempo da sola. Insomma, ci sono giornate che passano tranquille, ci sono giornate che passano purtroppo ad essere molto molto impegnati, ecco. Senti, ti è mai capitato un intervento davvero difficile? Sì, mi sono capitati diversi interventi particolarmente difficili. Mi sono capitate sterpaie che appaiono molto semplici in realtà, ma sono molto molto dispendiosi in termini di energia, di fatica e soprattutto di organizzazione del soccorso. Se per caso non sei in quel momento attrezzato, ma io faccio un esempio, no? Se una sterpaia è in un luogo molto impervio, non ci si può arrivare col mezzo, tocca attrezzarsi per arrivarci con la tubazione se non hai un fuoristrada, no? Quegli interventi sono molto molto impegnativi. Mi sono capitati incidenti statali particolarmente complessi, situazioni in cui la rapidità dell'azione doveva essere comunque un elemento fondamentale per portare in salvo delle persone, no? O anche e soprattutto, questi sono una cosa che a me personalmente, a me come Nicolò sperimentano tantissimo, sono le fughe gas, no? Io sono di Roma, a Roma nei primi anni 2000 una nostra partenza, una squadra è stata coinvolta in un'esplosione di un palazzo, insomma, di una fuga gas. È un intervento, è una cosa molto famosa qui a Roma, tutti i popiari di Roma conoscono questo fatto. Quindi personalmente, proprio come Nicolò, io le fuga gas le affronto sempre con una certa attenzione. Confesso che certe volte, quando magari la fuga non si trovava o quando era radicata nell'appartamento, un po' di paura in più mi è venuta. Cosa che è utile perché la paura nel nostro lavoro è perfettamente normale e anzi ti aiuta tantissimo a stare molto più attento. La famosa canzoncina del pompiere paura non ne ha, è più una leggenda metropolitana, diciamo così. Tra poco torniamo a parlare con Nicolò Agresta di questo fantastico mondo, cioè quello dei vigili del fuoco. E tu hai mai avuto a che fare con i vigili del fuoco? Ti è mai capitato di dover richiedere il loro aiuto? Fammelo sapere qui nei commenti. Adesso torniamo a parlare con Nicolò del suo fantastico mondo, cioè quello dei vigili del fuoco. Senti Nicolò, quali possono essere le situazioni impegnative durante il tuo turno? Impegnative sul soccorso sono tutti quegli interventi che richiedono una profonda concentrazione e una profonda coordinazione tra, non solo fra di noi, tra colleghi, ma magari anche con altri enti. Faccio un esempio, quando c'è un incidente stradale particolarmente violento, diciamo così, no? E la persona è rimasta incastrata dentro, fai conto che praticamente noi dobbiamo mettere il 118 nelle condizioni di stabilizzarlo. Quindi magari noi dobbiamo operare con la nostra strumentazione molto sofisticata tra di noi per disincastrarlo e permettere poi a un'altra persona ancora di fare un'altra operazione in più, particolare e complessa. Quindi questi sono gli interventi particolari. Per quanto si tratta, per esempio, gli incendi, molto spesso bisogna sempre tenere d'occhio il contesto dell'incendio. Esempio, quando c'è l'incendio di un appartamento, bisogna cercare di avere l'accortezza di non perdersi nel fumo, cosa che è difficilissima, perché il fumo non ti fa vedere nulla, non mi farebbe vedere neanche il microfono che sta a 10 centimetri, per darti un'idea. Chiaro. Oppure, se si tratta di un incendio di una sterpaia, capire quanto velocemente il fuoco sta camminando nell'erba secca e la direzione dove sta andando, perché ovviamente se si allontana troppo, se non sei in grado di andarlo a spegnere in tempo, si può andare a coinvolgere altre cose, no? Quindi su queste tocca stare molto attenti. Solitamente cosa fai dopo un turno impegnativo? La prima cosa è una bella doccia rilassante, diciamo così. Guarda, se viene dalla notte molto spesso ti vai a riparare un attimino, no? Oppure se viene dal turno di giorno, che stacchiamo alle 20, a cena molto spesso si racconta quello che si è fatto, perché aiutare a parlarne con il proprio compagno, la propria compagna, o con la famiglia, madre, padre, chi che sia, insomma, aiuta tantissimo a lasciarsi andare un attimino, a sfogarsi e a lasciarsi alle spalle tutto quello che accade, perché chiaramente il vigile del fuoco vede alcune cose che nella stragrande maggioranza dei casi magari non sono bellissime, quindi abbiamo a che fare ovviamente con la salvaguardia delle persone, degli animali e delle cose, quindi parlarne e sfogarsi dopo aiuta proprio tanto. Quanto dura un turno? Allora, un turno dai vigili del fuoco dura 12 ore, cioè dalle 8 di mattina alle 8 di sera, il turno diurno. Il turno notturno va dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Senti Nicolò, ti andrebbe di giocare alla nostra random box? Sì, va bene. E allora, come sempre, basta che la nomini e lei parte. Random box. È uscito che cos'è quello? Allora, io sono andato in giro per la rete e ho recuperato delle immagini di alcuni mezzi che voi utilizzate, perché mi piacerebbe capire che cosa c'è all'interno di questi mezzi. Sono davvero curioso, ho visto che ci sono un sacco di robe. Ti va? Certo, certo, vai, vai. Senti, questo è il mezzo che voi avete in dotazione? Uno dei mezzi che avete in dotazione? Sì, sì. Allora, i mezzi che abbiamo in dotazione sono vari, nel senso che sono varie le ditte costruttive che li realizzano, sono varie marche, però generalmente parliamo della stessa cosa. Cioè, questo è un APS, cioè l'autopompa serbatoio. È il mezzo base in dotazione ai vigili del fuoco. Cioè, è il mezzo della squadra principale. Questo in modo particolare probabilmente è un mezzo di supporto, perché non vedo lo sportello dei passeggeri posteriori, ma solamente del lato guida, come vi vedi, c'è solamente un lato. Certo. Quindi magari questo è un mezzo di supporto, perché oltre all'APS abbiamo l'ABP, cioè l'autobotte, no? Sarebbe praticamente il mezzo che porta più acqua, che è di supporto alla partenza principale, o come l'AS che sarebbe l'autoscala. Questo in modo particolare, credo che sia appunto una botte. Ecco, precisamente questo dovrebbe essere una botte. Senti, apriamo virtualmente queste saracinesche. Cerchiamo di capire... Queste serrandine, sì, sì. E come si chiamano? Serrandine laterali, sì, sì. Serrandine laterali. Ecco, le alziamo virtualmente e proviamo a capire cosa c'è dentro. Questo mezzo, in modo particolare, questo mezzo dei volontari, è molto equipaggiato. Nel mezzo puoi vedere comunque delle bombole, probabilmente sono le bombole per gli autoprotettori, cioè quel circuito in cui indossiamo la maschera che serve a farci respirare la pulita durante un incendio. Chiaro. In basso a destra puoi vedere quello che mi sembra essere il gruppo elettrogeno, cioè il gruppo che serve per dare corrente magari di notte. Perché capiteranno anche delle volte in cui dovete andare a fare un intervento e non c'è la luce perché è buio. Esattamente, ma poi soprattutto il gruppo elettrogeno si serve anche, che ne so, si serve generare elettricità per utilizzare qualche strumento elettrico, no? Sostanzialmente è per quello, ecco, è un generatore di corrente per quello che serve, anche e soprattutto, non so, per i fari o per le ventole. Le vigili di fuoco hanno delle grosse ventole che servono a movimentare l'aria, nel qual caso tu debba liberare un edificio del fumo, no? Serve soprattutto per quello. Poi sulla sinistra puoi vedere quel tubo nero arrotolato, quello è il naspo dell'alta pressione, cioè quello è un tubo di gomma arrotolato che i vigili di fuoco sdrotolano piano piano e è attaccata a una lancia per cui loro utilizzano per spegnere l'incendio. Diciamo che quello è più immediato, è un utilizzo più immediato rispetto alle manichette che tu vedi esattamente in basso, lì tu vedi quelle strisce rosse, non sono altro che le cinture che le tengono ferme, perché la manichetta va sdrotolata, va unita, va montata, quella porta più acqua, quella permette di spegnere un incendio forse in maniera un po' più efficace, ma varia da caso a caso ovviamente, varia da incendio a incendio. Sono due strumenti differenti, ecco, che si utilizzano in base a quello che si sta facendo. Senti, ma pesa tanto una manichetta piena d'acqua? Sì, sì, una manichetta piena d'acqua pesa, diciamo così, non tantissimo, ma pesa, perché poi devi considerare che i vigili di fuoco hanno standard due diametri di manichette, oddio, in realtà ne hanno tre per essere precisi, però i principali sono due, da 70 e da 45, che è la sezione della singola manichetta. Certo. E tu devi immaginare che ogni singola manichetta è lunga 25 metri, quindi molte manichette allungate, piene d'acqua, poi hanno un notevole peso, diciamo così. Certo, perché poi all'interno c'è anche una pressione, cioè, io mi ricordo di aver visto delle scene in film, eccetera, in cui veramente quando aprono le manichette c'è veramente una forza che comunque li respinge anche indietro, no? Ci saranno delle tecniche per contrastare queste pressioni, queste forze. Beh, sì, 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 in realtà noi veniamo addestrati apposta all'utilizzo delle manichette, della pressione che appunto ti spinge, che ti provoca all'utilizzo di queste manichette con la lancia annessa, perché poi il pezzo finale si chiama lancia, cioè appunto la parte finale a forma di cono, con appunto la maniglia per aprire e chiudere l'acqua, e ci sono varie tecniche di utilizzo, no? Molto spesso una lancia viene messa con il tubo sopra la spalla, in modo tale che la spinta tu riesca ad ammortizzarla con l'utilizzo delle gambe, l'utilizzo della schiena, insomma, e non ti pesi tanto. Oppure, che è la tecnica che utilizzo io in modo particolare, verso la parte finale della manichetta con la lancia, io faccio fare una S davanti a me, appoggiando la S al mio petto. Succede che praticamente tutto il peso, tutta la forza viene scaricata addosso a me, non ne sento troppo la pesantezza, e io riesco a dirigere la lancia quasi fosse un joystick di una console, ecco, per darti un'idea. Chiaro, chiaro. Però varia sempre in base a quello che si sta facendo, capito? Eh no, certo, immagino, immagino. Per dirti, quest'ultima tecnica che ti ho appena descritto, di solito io la utilizzo, di solito non io, ma in generale tutti i pompieri, la utilizzano quando devono stare fermi nello stesso punto a buttare molta acqua per molto tempo, quindi questa tecnica serve per stare lì tanto tempo e non stancarsi. Ad esempio, cosa si può notare da questo altro lato della camionetta? La cosa che spicca in modo più assoluto, lì dove tu vedi quella parte gialla con quella parte rotonda, quello è il gruppo da taglio dell'accesoia e del divaricatore. Ok. Questi sono due strumenti, l'accesoia, che il nome stesso te lo dice, no? Che serve a tagliare le lamiere. Certo. E il divaricatore che serve appunto a dividere le lamiere. Sono gli strumenti che utilizzano la spinta dell'olio idraulico e si utilizzano tantissimo per gli incidenti stradali, no? Per portare le persone fuori quando sono incastrate nelle lamiere della macchina. E cesoia e del divaricatore ci sono in tutto il mondo, perché sono l'unico strumento che i pompieri possono usare per intervenire in questi casi. Io ho visto delle immagini e queste cose, sembra che aprono le autovetture come quando apri la lattina del tonno. Cioè, in maniera molto semplice. Solamente l'olio idraulico ha una spinta tale da tagliare la lamiera. Non a caso tutti i mezzi di movimento terra si spingono a olio idraulico. Perché è l'unica cosa che ti permette di farlo. Poi la tecnologia è migliorata nel corso del tempo e addirittura questi strumenti, alcuni funzionano anche a batteria. Il pacco batteria poi di questi strumenti è enorme perché deve erogare una potenza tale da tagliare le lamiere. Ma ci sono comunque. Certo. Poi come puoi vedere un lato è pieno di manichette. Come puoi vedere, sono tuttissime. E a destra, nella parte posteriore, tu hai quei cerchi che vedi, non sono altro che le lance, le singole lance messe nella loro sede. Lance o da 45 o da 70, in base a quello che si deve fare. Chiaro. Senti, ma le famose accette, le robe dei pompieri, ma ci sono ancora? Cioè, le usate ancora le accette? Allora, le accette ci sono, nel senso che ti viene data l'accetta come equipaggiamento base. Io ce l'ho all'accetta, però no, non si usa più. Ho trovato anche delle immagini, ad esempio questa è la parte posteriore, se non sbaglio, è vero? Qui è dove si attaccano. Questa è la pompa, questa è la parte posteriore, come vedi qui c'è un altro naspo. Ok, certo. E qui ci sono la pompa con le varie mandate. La pompa in modo particolare è responsabilità, o meglio, ci lavora l'autista. L'autista del mezzo è anche il responsabile della pompa, ma in realtà tutti quanti dovremmo saperla usare. E infatti, bene o male, tutti quanti cerchiamo di imparare le chiavi, o meglio, i pulsanti base della pompa per farti avere acqua. Lì puoi vedere appunto vari tubi in cui abbiamo il tubo dell'aspirazione, il tubo della mandata. Quando dico della mandata, entrano a dire della mandata, cioè che ti manda l'acqua, dove tu attacchi la manichetta e ti arriva l'acqua. Quello è il tubo della mandata, diciamo così. Sì, sì, l'acqua che ti arriva per spegnere l'incendio. Diciamo che i mezzi in donazione al corpo hanno anche un serbatoio a parte di liquido schiumogeno estinguente, perché se magari stai affrontando un incendio di idrocarburi o qualcosa in particolare, si può utilizzare anche la schiuma per spegnere l'incendio, che crea una pellicola protettiva che soffoca l'incendio. E pure là c'è la valvola della schiuma in cui tramite l'aspirazione, tramite il principio di Venturi, il principio della fisica base di Venturi, in cui per una depressione si aspira il liquido schiumogeno, poi nel tubo, nella lancia, nella mandata o anche al Naspo, alcuni lo fanno anche al Naspo, poi si crea anche il liquido schiumogeno. Ma quanto può pesare in tutto l'attrezzatura che avete addosso? Eh, guarda, diversi chili. In realtà io personalmente non l'ho mai pesata, no? Perché non è che ti metti a pesare l'equipaggiamento, però devi immaginare che il vigile fuoco indossa ovviamente la sua divisa e quando affronta l'incendio poi sopra mette una giacca e dei pantaloni che sono fatti con un tessuto che resiste comunque al caro e alle fiamme. A quello ci devi aggiungere ovviamente i guanti, ci devi aggiungere l'elmo, ci devi aggiungere l'autoprotettore. Insieme ovviamente hanno un certo peso. Allora se sei curioso di scoprire come è fatta la divisa del vigile del fuoco, ti invito a vedere il prossimo video in cui sicuramente ne parleremo. Come diceva all'inizio, durante la presentazione, sei un vigile del fuoco, ma sei anche un autore. Sì, sì, ormai due anni fa è uscito il romanzo che ho scritto, eccolo qui, dal titolo Ubi Dolori Be Vigiles, è un romanzo dedicato proprio al mio lavoro, al mondo del vigile del fuoco, ed è una storia di finzione che racconta appunto la storia di un vigile del fuoco dall'inizio della sua formazione fino agli interventi più difficili. È un vero e proprio romanzo, il primo vero e proprio romanzo sui pompieri, quantomeno in Italia, ecco. Senti, e cosa significa il titolo, che significato ha? Il titolo è Il motto del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. Ogni comando provinciale dei pompieri ha il suo motto latino, e Ubi Dolori, Bi Vigiles, che significa dove il dolore, lì ci sono i vigili, è il motto del comando di Roma. Diciamo, è la frase più emblematica che ci rappresenta, diciamo, più di tutte, ed è appunto il titolo ideale per un romanzo dedicato ai pompieri. Io come vigile del fuoco ho chiesto l'autorizzazione alla mia amministrazione non solo a pubblicare il romanzo, ma anche nell'utilizzo di questo motto per il titolo. Senti, quanto c'è di te all'interno di questo romanzo? Beh, molto, in realtà, tantissimo. Considera che io ho sempre avuto la passione per la scrittura fin da quando ero adolescente, no? Il desiderio di scrivere un romanzo è sempre stato forte per me, e poi in modo particolare alla fine ho deciso di raccontare il mio lavoro proprio per il desiderio di raccontarlo, cioè di portarlo alle altre persone. Comunque come prima esperienza da scrittore, come prima esperienza di un'opera di narrativa, ho necessariamente preso spunto dalla mia personale esperienza di vita. Quindi c'è molto di me in questo romanzo, ma non solo, perché ho riportato anche storie e avvenimenti rivisitati attraverso il filtro della finzione letteraria, episodi e avvenimenti di colleghi che ho conosciuto in tutta Italia, nei vari comandi dove ho lavorato, a Verona e a Firenze. Senti, e dove è possibile acquistare questo romanzo? Il romanzo si acquista tranquillamente su Amazon, sul sito della casa editrice che è ApolloEdizioni.it, sui vari siti comunque come IBS, anche GinterPunto, c'è anche su Appeltrinelli, o si può chiedere comunque tranquillamente in libreria, una copia in libreria. Nicolò, grazie davvero per la tua disponibilità. Ma grazie a te, grazie a te Pietro, grazie a te per il tempo che mi hai dedicato. Grazie. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, ricordati di mettere un bel like e soprattutto di iscriverti al canale, così lo facciamo crescere. Inoltre, se ti va, ricordati anche di cliccare sulla campanellina così da non perdere le varie notifiche. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! Noi ci rivediamo